Ciao a tutti, io sono Erika e vi presento il video sull'Alfa Romeo Giulietta che è stata elaborata dallo staff di 9000 giri. Vi consiglio tanto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina perché arriveranno presto anche collaborazioni con me. Quindi a presto, ciao! Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi vi presentiamo una Giulietta 1.4 turbo benzina sulla quale nel corso degli anni, non abbiamo fatto il lavoro diciamo tutto in una in una unica sessione, ma è una sequenza di lavori che il cliente ci ha fatto fare nel corso degli anni. Adesso la macchina è qui per fare un tagliando e ne approfittiamo per farvi vedere diciamo un esempio di quello che riusciamo a fare a tutto tondo. Cioè di solito vi facciamo vedere lavori prevalentemente sul motore, sullo scarico, però ci sono altre parti che sono altrettanto importanti o interessanti. Quindi in questo caso partiamo dalla parte diciamo estetica in generale, nello specifico l'estetica interna. Questa macchina nasceva con un interno in tessuto, abbiamo rifatto completamente la selleria facendola in pelle, gli abbiamo queste piccole chicche, gli abbiamo fatto ricamare il logo Alfa Romeo sul poggiatesta, a volte alcuni ce lo chiedono lo facciamo ricamare qua, in questo caso il cliente allora sul poggiatesta, abbiamo ripreso in grigio le cuciture, quindi questo grigio poi al di là del fatto che appunto ovviamente la pelle è stata fatta diciamo in tutta la macchina, ovviamente anche dietro, il discorso del grigio poi è stato ripreso all'interno verniciando, abbiamo smontato quella che è tutta la plastica della plancia dove si vede appunto la parte centrale del video, quindi era di un colore nero lucido, l'abbiamo fatta fare in grigio e le stesse finiture le abbiamo fatte fare anche sulle portiere e sulla console, nella parte posteriore ovviamente pelle anche nella parte posteriore, quello non l'abbiamo messo noi, il discorso del grigio sulle maniglie l'abbiamo finito anche nella parte posteriore e ultima cosa i tappetini sempre fatti con il bordino grigio, quindi abbiamo curato proprio anche i minimi dettagli, quindi non è necessario avere una macchina da una Rolls Royce, basta avere una macchina diciamo comune o di un livello magari più basso ma si riesce comunque a fare un lavoro personalizzato sulla base di quelle che sono le esigenze del cliente, altra cosa che è stato modificato la cuffia del cambio sempre con le stesse cuciture, il pomello, diciamo che abbiamo curato tutto quello che era possibile fare all'interno, poi all'esterno partiamo dei cerchi che erano dei cerchi normali, questi sono dei cerchi normali alfa, li abbiamo solamente verniciati in tinta con la carrozzeria quindi lì è un lavoro molto semplice di carrozzeria, pinze dei freni verniciate rosse, adesso ovviamente sono sporchi, è un lavoro che abbiamo fatto magari un anno due anni fa ma giusto per far vedere quello che è il discorso estetico, abbiamo aggiunto queste minigonne laterali allongherone laterale ovviamente anche in questo caso fissate e verniciate in tinta con la carrozzeria, sulla parte anteriore è stata rifinita con queste sia la parte posteriore che anteriore è stato rifinito con questo filettino rosso quindi abbiamo sia la parte anteriore che la parte posteriore, la cromatura delle calotte degli specchi qui non abbiamo fatto, non abbiamo stravolto la macchina, abbiamo come dico sempre fatto tanti tocchi però cercando di mantenere un'eleganza che sia diciamo un'apparenza che non sia eccessiva, nella parte posteriore abbiamo cambiato quello che si chiama estrattore o damper, chiamiamolo come vogliamo, che potesse alloggiare lo scarico sportivo, in questo caso aveva montato un ragazzon duplex quindi destro-sinistro sempre con le uscite da 102, anche in questo caso è stato fatto il terminale artigianale e il centrale come diciamo tutte le volte il centrale diretto. A livello esterno direi che non ci sono altre cose, se vogliamo aggiungere la parte dei freni, cambiato dischi e pastiglie mettendo un impianto frenante con lo stesso diametro, quindi non abbiamo messo un impianto frenante maggiorato ma abbiamo messo un impianto sostituendo i dischi dello stesso diametro e le pastiglie con delle pastiglie abc sportive sia sull'anteriore che sul posteriore, adesso probabilmente durante questo tagliando dovemmo cambiargli le pastiglie perché ormai sono arrivate abbastanza al limite. Altra cosa che abbiamo fatto quindi siamo passati dall'estetica esterna interna, impianto frenante, l'assetto quindi adesso non la mettiamo sul ponte comunque vi possiamo assicurare lo vedete già dall'altezza della macchina, è stato fatto un assetto completo quindi ammortizzatori e molle ricordiamo che noi privilegiamo appunto componenti Bilstein e Eibach quindi sono stati montati degli ammortizzatori Bilstein B8 quindi con lo stelo accorciato su molle Eibach Pro Kit. La macchina viaggia su un binario, l'ho portato su io adesso, è un assetto che abbiamo fatto quasi tre anni fa, la macchina è precisa come un rasoio quindi l'assetto l'abbiamo descritto, motore ovviamente il motore riprendo quello che abbiamo detto prima quindi tutto l'impianto di scarico ragazzon, ovviamente la parte elettronica questa nasce con 150 cavalli, abbiamo fatto la centralina elettronica e il filtro aria quindi fra l'elettronica e il filtro aria e abbiamo fatto anche la modifica, lo stage 1 sulla turbina modificando la girante di aspirazione andando a completare quello che è lo stage 1 sul turbo quindi partendo dai 150 cavalli originali diciamo che grosso modo 50 cavalli fra la parte elettronica, la parte turbina, qualche cosa sullo scarico l'aspirazione diciamo che 50 cavalli sicuramente li abbiamo guadagnati per avere una macchina molto più più fluida, molto più scattante ma sempre in un limite di affidabilità che per noi è fondamentale cioè come spieghiamo tantissime volte un lavoro come questo secondo me è l'ottimale nel senso che non abbiamo esagerato in nessuna delle parti se avete visto l'estetica interna è stata fatta ovviamente soggettiva a uno può piacere un colore piuttosto che un altro però diciamo che la qualità del lavoro indipendentemente dal colore si vede che è stato fatto in una determinata maniera quindi l'estetica interna l'estetica esterna altrettanto elegante quindi il fatto di mantenere questa diciamo sobrietà in ciascuna delle delle aree dove noi lavoriamo per noi è fondamentale quindi l'assetto non abbiamo fatto un assetto a ghiera regolabile diciamo da pista abbiamo fatto un assetto con ottimi componenti ma sempre fruibile a livello stradale se uno gira a milano con un assetto a ghiera passa sul paveo sulle rotaie del tram e gli saltano via i denti quindi bisogna sempre trovare il giusto compromesso stesso dicasi per l'impianto frenante l'impianto frenante non è un impianto frenante maggiorato che diventa quasi inutile a livello stradale se uno la macchina la usa a livello stradale bisogna arrivare a determinati compromessi bisogna proporre al cliente determinate cose se uno viceversa la macchina la usa a livello pista allora l'assetto sarebbe stato fatto in maniera diversa l'impianto frenante idem e anche il motore probabilmente avrebbe guadagnato molti più cavalli però avremmo dovuto fare un lavoro totalmente diverso ovviamente più si estremizzano le singole parti e più come dico sempre la fidabilità meccanica generale decade proprio una curva diciamo o è un tipo di esperienza che abbiamo fatto ormai in 30 anni l'abbiamo capita questa cosa quindi sempre rimanere in un ambito di lavori fatti bene non estremi io direi che anche per oggi è tutto se avete qualunque informazione chiamateci in ufficio 027383175 io sono sempre lì anche per qualunque consiglio qualunque domanda che voi vogliate fare non è che dobbiamo vendervi per forza qualche cosa ci potete anche chiamare per un consiglio consultate il nostro sito così vi acculturate su tutto quello che abbiamo fatto ci sono 3500 vetture che sono quelle che abbiamo fatto negli ultimi più o meno dieci anni soprattutto cosa importantissima e ringrazio ringrazio ancora tutti quelli che ci stanno seguendo perché il canale sta crescendo grazie a voi cliccate sulla campanella che c'è sotto iscrivetevi al canale perché ci date più motivazione fate i vostri commenti ai quali io vi risponderò sempre sempre rimanendo in un ambito chiaramente di educazione e vi risponderò sempre iscrivetevi al canale perché sicuramente è una cosa per noi molto importante quindi anche per oggi è tutto alla prossima grazie grazie a tutti